Antonio l'ho conosciuto qualche mese fa, ha espresso il suo desiderio di tornare a giocare, così scherzosamente ci eravamo messi d'accordo perché venisse, poi ha avuto un incidente stradale, dopo c'è stato Sanremo e subito dopo Sanremo è venuto, mi ha chiesto di poter giocare e adesso bisognerà vedere quanto riesce a allenarsi, se riesce a conciliare quelli che sono gli impegni musicali con gli allenamenti, da oggi ho visto che ci ha messo voglia, le qualità secondo me c'è là per giocare, il 23 debutterà col torfa, entrerà a partita in corsa sicuramente, anche per qualsiasi giocatore che si inserisce in una rosa. Sì, il ragazzo promette, si vede che ha giocato a calcio, ha delle buone dote tecniche, ovviamente la condizione fisica è quella che è, deve migliorarla perché è ancora all'inizio, manca dai campi di calcio da tanto tempo. Al di là di quello che può essere un aspetto pubblicitario, insomma quello che pensa la gente, a me interessa poco. Siamo primi ormai da diverso tempo, nel senso che negli ultimi due anni ci è sfuggita quella che è la promozione in eccellenza per pochi punti, quest'anno siamo stati primi quasi tutte le giornate, forse due o tre siamo stati secondi, nonostante questo l'interesse della gente per la prima squadra del Fiumicino è scarseggia, insomma a parola ce n'è tanta, poi dopo la domenica sugli sparti, insomma lascia un po' a desiderare, ma non tanto per me, più che altro per quella che è la soddisfazione per i ragazzi, quindi anche se fosse solo che Antonio riesce a riempire i desideri, a me questo farà piacere soprattutto per i ragazzi. Meriterebbero uno stadio pieno per quello che stanno dando, ovviamente Junior Kelly è un valore aggiunto, soprattutto per valorizzare il gran lavoro che stanno facendo i ragazzi. In più ha dichiarato per sua espressa volontà, nel senso che tutto l'incasso che faremo già il 23, una parte sarà devoluta a un'associazione che lui ci indicherà, un'associazione che difende i diritti delle donne, la restante parte sarà dei giocatori che al Fiumicino non prendono rimborsi e lui, conoscendone qualcuno, essendo amico, ha voluto proprio fare questo regalo a loro. Sempre forza Fiumicino, grazie.